guarda, no prontemi di guardare eh adesso guardo anche così soltanto appoggiata così perfetto, guarda bel sorridere insomma vedo qui aspetta, guarda pure me tappa la tappa del giro d'Italia beh, noi siamo non abbiamo ancora ramificazione sei un'organizzazione siamo Unina Lugia, Romagna, Torino buon anno? ci siamo un'organizzazione Grazie a tutti